sai cosa possiamo preparare con le foglie di scarto dei carciofi un buon amaro laviamo bene le foglie il gambo che taglieremo a pezzettini poi tamponiamo bene con un canovaccio pulito prendiamo un barattolo di vetro andiamo ad inserire le nostre foglie di scarto e le pressiamo aggiungiamo anche la buccia di un limone adesso copriamo con 200 millilitri di alcol puro chiudiamo e lasciamo macerare al buio per 15 giorni l'attesa è terminata adesso portiamo sul fuoco 250 millilitri di acqua con 200 grammi di zucchero facciamo scaldare finché lo zucchero non si scioglie nel frattempo andiamo a filtrare l'alcol profumo di carciofo raccogliete le foglie in uno schiacciapatate così otterremo ancora altro succo una volta pronto lo sciroppo lo facciamo raffreddare e adesso non ci resta altro che miscelare il nostro sciroppo freddo con l'alcol immottigliamo tappiamo e conserviamo in dispensa per una ventina di giorni prima di consumarlo